Nel proemio del paradiso, dopo aver indicato la materia della cantica nella protasi, Dante invoca Apollo chiedendogli di renderlo vaso, cioè ricettacolo del suo valore, vale a dire della sua forza ispiratrice, per poter meritare la corona dall'oro il massimo riconoscimento poetico, il contrassegno distintivo della gloria poetica per eccellenza. Sempre nel contesto dell'invocazione ad Apollo, Dante, per sottolineare ancora una volta che il racconto dell'indicibile, cioè dell'esperienza di Dio, è un'impresa ai limiti dell'umano, afferma che l'ispirazione delle muse è stata, per così dire, sufficiente per il racconto poetico delle prime due tappe del viaggio, inferno e purgatorio. Ora è necessario che alle muse si unisca Apollo. Terza strofa, Dante rivolge una terza richiesta ad Apollo che chiama in causa il mito di Marsia e dunque ancora una volta le metamorfosi di Ovidio, è infatti nel sesto libro che il poeta latino racconta il mito in questione. Non è la prima volta che Dante chiama in causa Ovidio sulla soglia di un racconto importante. Lo aveva già fatto nel contesto dell'invocazione alle muse nel proemio del purgatorio. È questo un segnale importante, ci fa capire che le metamorfosi sono un modello di riferimento fondamentale per la costruzione della materia narrativa e poetica del poema dantesco. Torniamo al mito di Marsia e alla terza richiesta che Dante rivolge ad Apollo. Il poeta chiede di ispirarlo con la stessa intensità, con la stessa forza con cui ha svuotato Marsia dalla vagina, dalla guaina delle sue membra, con la stessa intensità con cui ha estratto Marsia dal rivestimento delle sue membra, cioè con la stessa forza con cui ha svuotato Marsia di se stesso. La prima parte dell'invocazione si conclude con la rinnovata richiesta di poter ottenere la corona dall'oro, il massimo riconoscimento poetico, proprio in virtù del carattere sublime della materia della terza cantica. Ora, il proemio del paradiso è superiore ai proemi delle due cantiche precedenti per due motivi, il primo molto semplice, il secondo più complesso. Vediamo il primo. Nel proemio dell'inferno Dante aveva invocato molto fugacemente le muse. Nel proemio del purgatorio si era rivolto nuovamente alle nove idee e in particolare a Calliope in maniera più estesa, chiamando in causa il mito ovidiano delle piche. Nel proemio del paradiso, consapevole della maggiore difficoltà dell'impresa, Dante chiede l'aiuto congiunto di Apollo e delle muse, dei numi tutelari della poesia. Quindi il proemio del paradiso supera i proemi delle due cantiche precedenti, perché Dante esprime il bisogno di un duplice sostegno divino, quello di Apollo e delle muse. Ma ad Apollo chiede anche qualcos'altro e lo fa chiamando in causa il mito di Marsia. Sta qui la seconda ragione per cui il proemio del paradiso supera quelli dell'inferno e del purgatorio.